Sergio Castellitto, chi è, età, carriera, film, e la moglie, figli, oggi, Instagram. Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con oggi e un altro giorno. La trasmissione in onda dalle 14 è condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi è anche la giovane scrittrice Maria Castellitto. Figlia di Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini, autrice del libro Menodramma. Che si racconterà a cuore aperto. Sergio Castellitto nasce a Roma nel 1953 da una famiglia a origini molisane. Ha frequentato, senza concluderla, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, facendo presto il suo ingresso nell'ambito teatrale. Settore quest'ultimo dove ha avuto modo di lavorare con eminenti personalità quali ad esempio quelle di Aldo Trionfo e Enzo Muzii. Nel 1996 esordisce come regista teatrale nella Piacce Manola, interpretata e scritta da Margaret Mazzantini e Nancy Brilli. Il suo esordio nel cinema invece è datato 1981 come semplice comparsa nelle pellicola Tre Fratelli. La sua prova migliore nel primo periodo è sembra morto, ma è solo svenuto di felice farina di cui scrive è soggetto collaborando anche alla sceneggiatura. Con il passare del tempo la sua fama cresce e non solo in Italia. Molto richiesto anche all'estero. Castellitto lavora in modo continuativo in Francia. La carriera di Sergio Castellitto è davvero colma di successi e riconoscimenti. Perfettamente a suo agio ed estremamente incisivo nei ruoli drammatici. Castellitto dà il meglio di sé anche nella commedia. Ne è un esempio la performance in Caterina va in città di Paolo Virzi. Nel corso della sua lunga carriera i riconoscimenti non tardarono ad arrivare. Nel 1990 vinse. Ad esempio il Davide Donatello per piccoli equivoci, il nastro d'argento arrivò invece nel 1992 per la carne e moltissimi altri premi incoronarono la propria veste di attore che non smette di emozionare e di ricevere un'ampia udienza di pubblico. Tra i suoi film più famosi al cinema, dove lo abbiamo visto recitare, ricordiamo. Ma non solo lavoro. Sentimentalmente parlando nel 1987 Sergio Castellitto si sposa con Margaret Mazzantini. I due si sono conosciuti recitando in Le tre sorelle di Chekhov. Dalla loro relazione nasceranno quattro figli, Pietro nel 1991. Maria nel 1997, Anna nel 2000 e Cesare nel 2006. Sergio Castellitto non ha un proprio profilo Instagram. Sui social sono tuttavia presenti numerose fanpage in omaggio al celebre e talentuoso attore. Grabește-te ca trenul ăsta nu așteaptă, dar eu știu deja ca vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina ca lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, 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 n-au avut hava, când e sus, 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 pot eu să sari. Acum că nu, 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 nu mai am nimic de-ascunz, pot să mă-l ușor, mai spun.